C'è la CISL Scuola di Salerno? Il nuovo sistema pensionistico. L'evento ha riscosso moltissimo successo, nel senso che sono arrivati da ogni parte della provincia assistenti amministrativi e docenti. Quindi ufficialmente oggi con questa manifestazione si apre anche la campagna elettorale per il fondo Espero in Campania per la lista numero 2 che è la lista della CISL Scuola Nazionale. Buongiorno, segretario generale CISL Scuola Campania. Oggi siamo qui a Salerno per un corso di formazione sul fondo di pensione integrativo Espero che è dedicato ai lavoratori della scuola. È un fondo integrativo, siamo pronti alle prossime elezioni, come sapete c'è il rinnovo del fondo Espero. È un corso di formazione per far capire ai lavoratori della scuola quanto sia importante aderire a tale fondo al fine di garantire un minimo di integrazione alle pensioni, nostre pensioni future che come sentite normalmente sono in ribasso. Quindi cerchiamo di far capire alle persone quanto sia fondamentale aderire, spiegando come aderire e facendo capire che in ogni caso essendo un fondo dedicato solo ai lavoratori della scuola ed essendo il primo fondo dove c'è un finanziamento del lavoratore, diciamo del datore di lavoro e quindi un contributo del datore di lavoro che è la scuola, quanto sia a garanzia della nostra attività. Grazie a tutti!